su spettacolomania diamo il benvenuto a elia o elijah knight come preferisci come stai molto bene io sono in italia sempre va bene ti piace l'italia e ti piace roma c'è di già stato molto piace mia mia prima grande esperienza esperienza in roma e shooting del film allora mia emozione con rome very good memories si allora siamo qui spieghiamolo a chi ci sta guardando siamo qui all'auditorium parco della musica di roma la festa del cinema dove è stato appena presentata miss fallaci quindi la serie protagonista miriam leone e che ti vede nel cast ci racconti il tuo ruolo si my role is neil carter world war two u.s soldier who escaped italiano riesce allora uno neil carter è un soldati americano della seconda guerra mondiale e come si dice lui è partito della prigione prisoner of war camp escape e fuggito grazie si fuggito e oriana una partigiano prendere neil in lei a lei casa rifugiato io sono io anche un camarado richard price e il altro soldato americano in la serie e con me is like my brother con i fratelli senti che cosa è stato per te che che importanza aperte la partecipazione a questa questa serie very important for me is very humble to be part of this project aida in grado un italiano bene per me una una grande onore per roma una la cultura di cinema italiano e vaste molto grande e mi mio padre di grigione allora mio ancestro c'è sangue italiano sì lo sono svizzero meme way back e sangue italiano sanguin italiano allora grande onore e la e la storia una storia molto relevante aspetto molto relevante la situazione globale e oriana falasci una partigiano una una grande donna e io una lista una scrittrice sì sì pioneer una pioniere e tempo e credo anche il miro il carattere di neil tutta mia carriera voglio giocato un soldato americano mia vita privata io ho fatto militare una grande partita della mia identità e povere fatto lei in una serie una una bella storia senti un'ultima cosa com'è stato lavorare con miriam leone la conoscevi già o l'hai conosciuta in quest'occasione allora la conosce today io lavorare con la piccola Miriam leona 14 anni l'interprete che fa la fallace a 14 anni sì vittoria una una giovane attrezza molto molto professionali for her age so a great great pleasure working with her un grande piacere e today aspetto primera vista miriam leone carismatica è una bellissima giornata grazie mille grazie 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 a te